Appuntamenti in agenda per sabato 26 agosto. Tornano le escursioni, la montagna, il gruppo La Strada Savona, alle 9 in Piazza Santuario. Si partirà alla volta del Monte San Michele e del Santuario di Savona, un anello nei boschi che si concluderà con la visita al Santuario di Nossa Signora della Misericordia. Tipicamente Chiavari, mercatino agroalimentare con prodotti tipici e banchi di enogastronomia. Per tutto il giorno le bancarelle saranno in via Rivarola a Chiavari. Dalle 8.45 alle 19 a Villa Noce di Rezzoaglio, seconda edizione della giornata di Barahonda, gara di bocce sui prati del liquorificio. A bordo del leudo dal museo al mare, a partire dalle 16 a Sestri Levante, visita accompagnata al museo archeologico e uscita in mare con aperitivo sull'ultimo leudo navigante in Liguria. Seconda giornata della Sagra del Fungo a Tavarone di Maissana, dalle 19 ricco menù con specialità gastronomica a base di funghi porcini, in serata musica con l'orchestra I Caravell. Gran galà dell'estate in Piazza Unice fa Casarza Ligure, dalle 19 stand gastronomici e ballo con l'orchestra Franco Bagutti. Il ricavato della serata sarà a favore dell'asilo. Seconda edizione della cena kebab a ris sul sagrato della chiesa di San Giuseppe ai piani di Ria Chiavari, dalle 19.30 cena organizzata dal gruppo Giovani a base di kebab, patatine fritte e crepe. Alle 20.30 al chiosco della musica di Rapallo presentazione della videocanzone Vado Rapallo di Pieramati, Carbone e Sergi Capitelli. In Piazza Caprera, Santa Margherita Ligure, alle 21, Democrazia e Pace, nell'ambito del Festival della Politica, incontri sul tema e consegna del premio per la saggistica politica Isaia Berli a Benedetta Craveri. Tributo a Denio Morricone, in Piazza della Libertà Lavagna, alle 21, concerto del Corpo Bandistico Cittadino. Serata danzante con Paolo Bertoli, alle 21, alla polisportiva Torricella, nella frazione di Scurta Boavaris e Ligure. Serata poetica, al Santuario di Nostra Signora di Guadalupe, a Santo Stefano Daveto, l'inizio alle 21.15. Il Festival Organistico Internazionale approda l'Uni in provincia di La Spezia. Alle 21.15, nella chiesa parrucchiale dei Santi Giacomo e Filippo, concerto all'organo di Giovanni Maria Perrucci. Alle 21.30, in località costa di Framura, Paolo Cognetti presenterà il suo libro La Felicità del Lupo. L'autore dialogherà con Mauro Bersani. Sotto il campanile di San Michele di Pagana Rapallo, alle 21.30, Cinzia Leone presenta il suo romanzo Vieni tu, giorno nella notte. Per il Festival, ombre di jazz a Boiasco, alle 21.30, in piazza 26 Aprile, verrà proposto lo spettacolo Accordi, Disaccordi, Fit, Anais, Drago. Con Anais, Drago al violino, Alessandro Di Virgilio e Dario Berlucchi alla chitarra, Dario Scopesi al contrabbasso. A Chiaveri, nell'ambito del Dionisio Festival, alle 21.30, performance in piazza Nostra Signora dell'Orto di Enrico Loverso, in uno, nessuno, centomila. Il Parco dell'Aveto aderisce alla 27esima Notte Europea dei Pipistrelli, organizzando un'intera serata al Passo del Bocco, a Mezzanego, dedicata alla scoperta di questi curiosi e affascinanti mammiferi, con cena al rifugio devoto offerta dal Parco.